Trentasettesima giornata del donatore si è svolta ieri a Gela promossa dalla sezione locale dell'ADAS preseduta da Enzo Emanuello. Un momento di condivisione per ringraziare quanti contribuiscono saltoremente o abitualmente alla donazione del sangue. L'iniziativa si svolta nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella. È una festa che vogliamo dedicare ai nostri donatori, donatori che spendono il loro tempo, che spendono la loro vita per aiutare il prossimo. È la Gela per bene, la Gela che comunque dà un segno di grande civiltà nel dono del sangue, in questo grandissimo gesto d'amore. Vogliamo vivere questa giornata in allegria, l'allegria che contraddistingue il nostro gesto d'amore, il gesto che comunque riesce a salvare la vita a tante persone che purtroppo ancora hanno bisogno di questo preziosissimo liquido. Presente ieri anche il presidente nazionale FIDAS, Aldo Ozzino Caligaris. Gela in questo momento sta rappresentando una realtà particolarmente vivace, attiva nei confronti dei giovani per promuovere la cultura della donazione del sangue verso coloro che sono i donatori di oggi ma soprattutto i donatori di sangue di domani. Quindi è una testimonianza, un ringraziamento verso i donatori, verso l'associazione, un senso di responsabilità anche nei confronti di tutta la popolazione che ha bisogno di terapia trasfusionale sicura e disponibile e in una realtà, in una regione come quella della Sicilia che vede spesso ancora delle carenze di sangue e la necessità di garantire ai cittadini, in particolare talassemici, una terapia trasfusionale disponibile. Il Vescovo della Diocese di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Donare qualcosa di sé significa entrare nella compartecipazione di quello che effettivamente tutti noi siamo, cioè persone che si incontrano nella fratellanza ed è importante che qualcosa lo si possa avviare anche in questa direzione. Donare il sangue, a mio parere, oltre alla grande allusione che si possa fare a Gesù che muore sulla croce, direi che per noi è l'inizio di un etos nuovo in cui effettivamente tutti capiscano che ognuno nella misura in cui pensa all'altro e pensa alla felicità dell'altro raggiunge anche, sembra una cosa paradossale, l'autorealizzazione, cioè la realizzazione di se stessi. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha portato i saluti della giunta comunale. Con un gesto forse semplice si riesce a fare una grande azione, quella di dare aiuto alle persone, di poter dare alle persone che soffrono, perché quando si parla di sangue vuol dire che sono persone che sono in situazioni sicuramente non idilliaca e che con questo gesto di ognuno di noi è possibile dare una speranza a delle persone che soffrono. Grazie a tutti.